Buongiorno a tutti, sono Manuel Masini, referente del coordinamento provinciale di Libera Reggio Emilia. Da ormai qualche anno collaboriamo con il Comune di Scandiano per la rassegna Scandiano Resiste, per portare anche il nostro contributo alle celebrazioni per il 25 aprile. Il motivo della nostra volontà di esserci è semplice. Come ricorda sempre da Luigi Ciotti, il miglior testo antimafia è proprio la nostra Costituzione, nata dalla resistenza al nazifascismo. Dentro di essa sono contenuti tutti quei principi che ci permettono di impegnarci per una società libera dalle mafie, ovvero democrazia, giustizia e diritti sociali. Senza di essi la legalità sarebbe solo una parola vuota. Sappiamo che non poter organizzare iniziative in cui essere presenti e vicini fisicamente è faticoso, ma non per questo meno importante. A causa della diffusione del virus, anche il 21 marzo, giornata nazionale della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti delle mafie che quest'anno si sarebbe dovuta tenere a Palermo, è stata virtuale. Ma questo non ci ha impedito di ricordare ognuna delle oltre mille vittime, con la propria storia e il proprio esempio. Attraverso delle foto postate su Facebook abbiamo ricordato tutti quei nomi che altrimenti rischiano di perdersi solo nel dolore dei propri familiari. Queste foto sono state distribuite tra i profili di attivisti in tutta Italia, a cui si sono aggiunti altri migliaia di cittadini con altre migliaia di foto, per amplificare il ricordo di queste persone normali che stavano compiendo il proprio lavoro, vivendo la propria vita, ma tutte uccise dalla violenza mafiosa. Come cittadini abbiamo il dovere di ricordare e quindi inventarci nuovi modi di fare memoria, qualificando così il nostro impegno quotidiano per gli altri, qualunque questo sia. Grazie a tutti per il tempo che ci avete dedicato e per aver deciso anche oggi da che parte stare. Buon 25 aprile, festa della liberazione dell'Italia dal nazifascismo da parte di tutta Libera Reggio Emilia.